Bella a tutti ragazzi, qua Argasmic con un secondo squad builder, il secondo episodio delle squad builder non ho voluto fare il terzo episodio, pubblicare il terzo episodio del Road to Glory e non ancora perché ho pensato che magari poteva sembrare un po' monotono, sapete solo video di Road to Glory allora ho deciso di aggiungere anche qualche squad builder e altre serie che usciranno in futuro comunque, dunque, prima di iniziare a parlare di questo squad builder vorrevo invitarvi a iscrivermi attenzione, non è una pubblicità questa, è soltanto che vi invito a iscrivervi a Flash Together che è un utente che magari conoscete anche, ha tanti iscritti sui 1500, no 1300 iscritti comunque un ottimo youtuber, fa ottimi video belli di FIFA, altime team e anche carriera altro e soprattutto mi invito perché faccio una serie insieme a lui nel suo canale una serie di giocatori OP, buggati, quindi vi consiglio di andare a darci un'occhiata e iscrivervi al suo canale che veramente merita e ovviamente non chiedetemi tutti per piacere di, perché a me stanno arrivando veramente tante richieste di fare serie insieme o partite insieme perché veramente non ho il tempo materiale per farlo quindi mi spiace ma non, abbiate pazienza ma non posso accontentare tutti comunque, questa squad builder è una squad builder che non troppo costosa sui 40.000 crediti, molto molto forte adesso vi faccio subito vedere allora, portiere allora in porta c'è Hugo Ioris Ioris, l'ho comprato con scudo con lo stile intesa scudo non mi ricordo neanche cosa aumenta ah sì, riflessi, velocità e rinvio ho preso 18.500 diciamo lui è la metà della squadra, nel senso del prezzo della squadra più o meno comunque non è un portiere così forte secondo me non li vale 18.500 ogni tanto si fa delle belle parate ha quasi 90 di riflessi, una buona velocità però boh non mi convince molto quindi vi consiglio di prendere altro come... no, ho sbagliato come... madonna riesco ad andare... ok come terzino destro abbiamo Abate che come ho già detto l'anno scorso cioè in FIFA 13 secondo me è uno dei terzini più forti del gioco perché è veloce, molto offensivo molto offensivo ma anche difensivo difende molto bene l'ho provato poco in questo FIFA 14 però comunque mi sembra ancora ancora un buon difensore ve lo consiglio ho pagato 4.500 quindi il prezzo è anche più basso dell'anno scorso difensore centrale ho scelto Mexess qui a destra Mexess l'ho pagato veramente poco 850 crediti ma non capisco perché costi così poco veramente valido come difensore molto forte anche fisicamente velocità decente buon colpo di testa buona difesa quindi ve lo consiglio anche a lui difensore centrale invece di sinistra c'è Mangalà che io non mi ero accorto che aveva 87 di testa mi sono accorto solo dopo sono rimasto sorpreso costa soli 1100 crediti e molto veloce ottima difesa grande colpo di testa l'unica pecca forse sono gli work rates perché ha work rates d'attacco alto quindi molte volte spinge verso l'attacco quando magari dovrebbe stare in difesa però questo vuol dire che nei calci d'angolo è molto pericoloso ve lo consiglio ha pagato si 1100 crediti terzino sinistro no ho sbagliato non è crescito se sbaglio ho cliccato no è alexandro del porto va difensore che non è il massimo però vabbè come terzino va abbastanza bene pagato 800 forse un po' troppo rispetto a quello che vale però poi cdc di destra nigel de jong ragazzi questo giocatore è fortissimo è fortissimo vabbè non è molto veloce non ha un gran tiro però ha un gran valore di difesa un buon colpo di testa ma non dovete guardare tanto la carta qui dice work rates d'attacco basso di difesa alto incredibile 3 partite 2 gol è sempre in avanti questo giocatore ed è sempre in difesa quando deve tornare quando deve difendere è veramente fortissimo validissimo pagato 750 credit uno scherzo potrebbe valerne molto di più ve lo consiglio tantissimo centrocampista difensivo che sta a sinistra invece ho de fur che al contrario di de jong non è che mi è piaciuto moltissimo pagato vabbè 350 credit è pochissimo work rate normale normale buona velocità un tiro discreto decente dai un ottimo passaggio buon valore di difesa vabbè colpo di testa sarà un nano quindi 1.74 abbastanza basso quindi non è il massimo però vabbè per 350 credit vabbè è fortissimo diciamo però vabbè davanti alla difesa mi aspetto altro ecco c o c ah mi sono dimenticato di dire vabbè lo vedete il modulo è il 4-2-3-1 quello con i tre trequartisti e poi l'attaccante il primo trequartista è Dembélé che ho deciso di mettere lui al centro perché ha work rate di difesa alto quindi torna anche 4-6 l'abilità buona corsa ottimo tiro buon passaggio buon dribbling tre partite un gol pagato 5300 crediti sì forse è un po' tanto però comunque molto forte come trequartista già mi ero innamorato di questo giocatore l'anno scorso quest'anno mi sta per ora è valido è valido trequartista oh madonna non riesco più quest'anno a spostarmi ecco qua trequartista che sta a destra Emanuelson Emanuelson non è il massimo però vabbè pagato 400 crediti ottima velocità buon tiro cioè buon sinistro più che altro buon passaggio ottimo dribbling peccato che non ha 4 stelle abilità però comunque se sì vabbè se avete pochi crediti prendete lui che vabbè ci sta se avete qualcosa in più prendete Eriksen del Tottenham che poi vedrai che c'è poi intesa con Dembélé e quindi lui è veramente molto valido perché soprattutto ha 5 stelle piede debole trequartista di sinistra è il mostro De Bruyne o De Bruyne 5 stelle piede debole 4 stelle abilità ottimo dribbling tiro della madonna buona velocità ottimo passaggio veramente un mostro questo giocatore per quello che costa 1900 ha fatto 2 gol in 3 partite 5 assist è veramente fantastico questo giocatore ma soprattutto perché lui prende palla tira dappertutto segna è fortissimo ve lo consiglio e infine attaccante abbiamo Bente che o per chi vuole spendere magari qualcosa in meno c'è comunque Lukaku che sono due giocatori molto uguali molto simili 3 partite 3 gol lui segna sempre difficoltà in vantaggio lui segna sempre pagato 6000 crediti si ha anche 2 assist quindi comunque fa anche segnare altissimo forza fisica incredibile a 90 buona velocità ottimo tiro poi ho messo comprato con cecchino quindi aumenta il dribbling e il tiro quindi ci sta ve lo consiglio adesso ragazzi vi lascio le clip prossimo squad builder ai 100 mi piace quindi se questo video raggiunge 100 mi piace ci sarà un altro squad builder che magari potete anche consigliarmi voi dei giocatori da usare ricordate appunto di mettere un mi piace un commento ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto noi ci vediamo al prossimo episodio bella ragazzi ciao ciao